Musica Ciao ragazzi, dicoci qua nel secondo episodio di questo fantastico gioco Bastarda, vieni qua, vieni qua Adesso mi sono preso il mago, come vedete Come on, you upper-cats Come on, you upper-cats No, start up Così, così andrò a vedere che cacchio posso craftare Guardate ragazzi, il mago Lo so fare Non so che cazzo so, bub, 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 però lo stesso Adesso con il tab possiamo staccare i cubi Vieni qua Grazie a tutti. 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 Buon ruolo. Buon ruolo. Buon ruolo. ho preso il 1 il 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 che niente io eh? Anche sto attuando blu 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 blu... Va beh ragazzi, adesso... ...cos'altro possiamo croftare? La forge possiamo croftare, si. Croftiamo anche la forge. Ok. Dobbiamo che la forge adesso. Per mettere la forge, come cacchio si mette però? Facciamo qui il nostro sosia. Ah, come possiamo... ah, però, sempre il crafting però. Ok, bello se pare. Adesso. Qua. Baglia 8. No, baglia 8. Ok. Sempre in moda di crafting si può farvelo. No. Eh, scusa. Eh, qua possiamo forgeare. Un po' ground. Cinque nade. Flux. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque ragazzi. Si... Ok, siamo conf eternity... Wow! Quante limitri... Ah, qua possiamo lasciare tutte nella nostra cesta, che in teoria non dovrebbe essere. Allora, vediamo cos'altro possiamo fare. Allora, questa è la nostra crafting. Allora, cub bl 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 bl, questa è la sua, si, for me, quale portale, decostruttor, a prescindere. Già che abbiamo abbastanza cubi. Ok, adesso quello lo mettiamo qua, va? No, 8, ok. Ok, faccio vedere, ok. Come la? Vediamo come la? Ah, devo cliccare dopo, ok, bene. Comparato, salvage, equipage, decostruttor. Comparato. Cazzo. Ah, vaffanculo, non c'è questo, dà. Livellato, ragazzi. Oh, 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 oh. Oh, oh. What the hell are you... Oh, oh. No ma troppato un beato ciuffale o no? Va beh, ok. Allora, studierò benissimo sta roba qua. A te ti mettiamo qua, a te ti mettiamo qua. Vabbè ragazzi, noi ci sentiamo la prossima volta, sempre con questo volpe. Ciao a tutti!